E' stato scalpellato apposta, anche perché, notate che se si fosse rovinato, per il trasporto dovrebbe essere rovinato tutto, invece solo la faccia, che sono andati proprio a colpire. Questo qui è Cristoforo Caimo, giure consulto fiscale, cioè esperto di diritto fiscale, eletterato, quindi persona colta, morto nel 1539. Questa è la sua lastra tombale, ovviamente una volta c'era la tomba orizzontale, poi hanno preso questa parte e l'hanno spostata. Questo è quello che vi dicevo prima, cioè Milano consuma le cose, quindi siamo già fortunati che questa persona, morta nel 1539, è rimasto questa. Però vabbè, comunque ci sono cose molto più interessanti di questa. Per esempio Grazie.